Tassista per favore Cosa? E' la più petto! No no Ancora tu Ma non è possibile Come che voglio Questa signorina ha un'urgenza Ci penso io Si è scoperto Si è scoperto Oh Urgenza di partire Mi prendi Ehi! Ehi, adesso bisogna... Dodo! Ehi! Sì, Dodo! Non si fa così! Ehi, io metto la malissata qua! E ora io adesso adesso qua! Eh, no, no! Eh, no! piano c'è roba delicata lì e arriva direttamente la gallina e poi la signorina c'è bicchieri di cristallo la televisione al plasma che ha regalato il papà è 90 pollici bellissimo attenzione piano piano la valigianza va bene attenzione mette la valigianza qua e via si parte ehi ma che fai devi aprire lo sportello per questa signorina tutta elegante tutta caldipo ma si è venuto il quarto o la portiera rotta? è rotta cambiamo portiera attenzione eccola qua prego deve salire lì qua vuole salire dal tetto? ho sentito un rumore ma io ho sentito il sapore BAM ci vuole un meccanico ci vuole un meccanico in santo ci penso io ci punto l'occhio io attenzione ma non puoi facciano lo stampato ci vuole un'occhio che si viene e si carica la macchina lo dico io ci penso in quanto è no 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 ok non va più ancora qua la macchina è è fatta? caput caput ah e adesso? eh non lo so che c'è? ah vedi? che c'è? c'è un babbo la barbita ci penso io è il babbo la barbita ma c'è la barbita ancora ok ok ah perché c'è? un babbo? guarda guarda ti mangio un babbo ti mangio ti mangio ti mangio ti mangio stai mangiando? bravo è bravo 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 Sono qua, che è giusto? Oh, no, no, tipo adesso mi è staccato! Mi è staccato, signorina! Signorina, venga fuori! Dodo, ma non è una volta la vostra? Che è giustata! Signorina, certamente può venire... No, no, con più delicatezza. Ah, che c'è? Signorina, che c'è? Ancora più delicato... Signorina! Ven fuori! Allora è meglio... Così si tratta male, no? Ok, finciamo, finciamo la macchinina! No, di partenza via! Eccola qua! Ehi, Dodo, Dodo! La macchina è partita! Ma non la vedevo! Fermalo, ma non scappare! Non scappare! La macchina è partita! Ehi! Alla è! Alla è! Vieni qui! Vieni qui! Ecco la voce! La voce! Non c'è la voce! Come vieni? Alè! Alhani come Allora! Sì! Allora signorina Aiuto, come aiuto? Non scendere e pagare Perché? Vado a piedi No, deve pagare Devi pagare 50 euro E un po' più ma Anch'io Allora accetto E' armato Vai Sparale Che devo fare? Spara No, alla signora che sta filmando No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Vado, metti il topo Metti il topo E' finito Finito Sento Allora, ragazzi Ti stanno guardando la macchina Oh, oh, oh Ti schiaccia Ehi, ragazzi Sono partiti Ehi, ragazzi